Uomini e donne Gossip, Alex e Alessandro vanno a convivere Alex Migliorini e Alessandro damico di Uomini e Donne vanno a convivere. . Quella formata da Alex Migliorini e Alessandro damico non è la prima coppia nata allinterno di Uomini e Donne che decide di andare a vivere insieme. Tra le coppie più recenti troviamo quelle composte da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Come loro il protagonista del trono gay di questa stagione di Uomini e Donne e la sua scelta hanno deciso di vivere sotto un unico tetto. . Ad annunciarlo è proprio l'ex corteggiatore attraverso una Instagram Story. . Alessandro, infatti, ha pubblicato un breve video in cui si mostra lui in una casa in cerca del suo Alex. . A confermare tutto ciò è l'hashtag, Cancelletto Casa Topini, usata proprio dal napoletano. . La città in cui i due hanno deciso di far partire il loro futuro è ancora incerta. . Alex è di Verona, Alessandro molto spesso va ad Ibiza dove gestisce un ristorante. . Accorceranno le distanze stando insieme. . A distanza di un mese dalla scelta Alex Migliorini e Alessandro D'Amico hanno deciso di andare a vivere insieme. . Dopo aver passato insieme una sola ora a settimana durante il programma Uomini e Donne, i topini è così che si chiamano tra loro hanno deciso di viversi 24 ore su 24. . Ai due fidanzati, probabilmente, non basta più condividere una serata in discoteca o un pasto insieme, a partire da ora si pensa per due e non per uno. . . In realtà già all'interno del programma è venuto fuori il desiderio di Alessandro di viversi Alex al 100%. . Ora, finalmente, possono farlo ed è un'occasione per mettere alla prova entrambi i caratteri. . . Alessandro D'Amico di Uomini e Donne Passione Fotografo. . Intanto esce la gelosia di Alex. . 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 Facendo un apprezzamento e ha aggiunto, vogliamo di più. Prossimamente vedremo anche migliorini posare senza veli? Chissà e.